Puntata di Polifemo, l'occhio di Abate di venerdì 25 settembre, ore 21, canale 93, Viva la Puglia Channel, una puntata interamente dedicata alla sanità. Sanità pubblica, sanità privata, cercheremo di affrontare varie tematiche, quelle che voi amici telespettatori ci avete suggerito e lo faremo con l'avvocato, dicevo, sanità pubblica e sanità privata. Lo faremo con l'avvocato Stefano Rossi, direttore generale dell'ASL di Taranto, con il dottor Bruno Causo, direttore generale della Fondazione Cittadella della Carità, con l'avvocato Vincenzo Laudadio, rappresentante regionale dell'Adusbef e componente del comitato consultivo misto dell'ASL. Tante le tematiche, ci vorrebbe un'altra trasmissione per presentare, ma ve ne dico alcune. Nuovo ospedale, liste di attesa, ticket, medicina difensiva, riorganizzazione del Santissima Annunziata, spending review e contenimento della spesa, insomma cercheremo di dare, grazie agli ospiti in studio, tutte le risposte. Ricordiamo poi che la replica della puntata andrà in onda domenica 27, a distanza di due giorni, alle ore 14.30. Non vi resta che sedervi comodamente in poltrona, posizionarvi sul canale 93, viva la Puglia Channel, e godervi questo polifimo. Una trasmissione realizzata a titolo privato, ma che svolge, come vedete, una funzione pubblica, un servizio pubblico. Buona visione.